mio signore l'ultima resistenza d'orleano è caduta date a me quest'elmo la guerra non è un posto per donne così giovani per di più il popolo chiede aiuto hanno bisogno di qualcuno per cui combattere nessun sovrano sano di mente metterebbe una spada in mano a una donna le tue parole nutrono in me un germoglio di speranza screditare la pulsella vorrebbe dire condannare il nuovo regno alla sfiducia dio ti ha fatto delle promesse rispondi giovanna io ti sarò fedele qualsiasi cosa accada grazie a tutti 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 grazie a tutti